Bella a tutti raga, bentornati sul mio canale e bentornati con il solito appuntamento settimanale che abbiamo appunto con Fortnite per andare ad analizzare quelle che sono appunto le sfide della settimana numero 6 del pass battaglia numero 3 di Fortnite. Quindi come sempre andiamo a vedere le sfide della settimana numero 6 di appunto le sfide di questa settimana che sono appunto come sempre l'infriggere dei danni agli avversari, questa volta lo abbiamo con le mitragliette, il cercare dei forzieri, questa volta li dobbiamo cercare negli armi anarchici, dobbiamo usare il falò invece che utilizzare il cespuglio, dobbiamo appunto eliminare dei nemici con le armi esplosive invece appunto che con le trappole, dobbiamo appunto eliminare i nemici a corso commercio invece che a pinnacoli e dobbiamo appunto cercare tra un ponte di metallo, tre manifesti ed un busto di sfrutto. Dobbiamo inoltre anche raggiungere la sommità di diversi cimi di montagna, quindi in questo video amici andremo a vedere quello che è il cerca tra un ponte di metallo, tre manifesti e un busto di sfrutto. Quindi una volta startata la partita dovremo buttarci in questa zona, se ci fate caso qui vicino a Condotti Confusi è possibile iniziare ad intravedere il ponte, quindi oltre al ponte qui sotto amici potrete appunto vedere i tre manifesti e sotto un pochino più in basso c'è appunto l'autobus. Quindi una volta a tirare su questa montagna li dovrete appunto avvicinare in questo spazio bianco ed una volta avvicinati come sempre vi comparirà la stegna. Quindi una volta finita la partita e ritornati alla lobby se andremo a vedere nelle sfide della settimana quella l'avremo portata a termine. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile, lasciate tanti mi piace, tanti commenti e iscrivetevi al canale per non perdere il video per quanti partiti alla settimana numero 7. Vi ricordo per chi avesse comprato il pass battaglia adesso che è sotto in descrizione lascio il link di tutti i video delle settimane passate. Quindi come detto io vi ringrazio alla visione e ci vediamo al prossimo video. Bella!